Musica Buonasera, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. E conto alla rovescia per il tanto atteso ritorno della Sagra di San Nicola che torna con una novità. Dal 2 al 6 maggio prossimi si potrà vivere la suggestione del corteo storico di San Nicola in ognuno dei cinque municipi. Ne parliamo con l'assessore alle culture del comune di Bari, Ines Pierucci, in collegamento Skype con noi. Assessore, buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie a voi dell'invito. E allora cosa accadrà dal 2 al 6 maggio? E' una novità della quale si è parlato in realtà sin dal 2020 quando abbiamo purtroppo revocato la gara biennale che fu assegnata allo stesso direttore artistico Nicola Valenzano con il quale avevamo condiviso quest'idea di appunto abbracciare la città attraverso il culto nicolaiano a partire proprio dagli altri quartieri diversi da quelli del centro dove avviene la sfilata quella del corteo storico del 7. Allora saranno tanti piccoli momenti a creare questo prologo che proveranno a iniziare la narrazione dal 2 fino al 7 che è appunto il giorno del corteo e quindi ad allungare le celebrazioni per l'intera settimana. Noi siamo molto contenti perché questa scelta strategico-politica rientra nella condivisione delle strategie dall'inizio del mandato appunto dove tutto il cartellone delle iniziative culturali e tutto il mandato ha quella visione che si rivolge soprattutto ai quartieri diversi dal centro. L'abbiamo visto con municipi sonori della fondazione del Teatro Petruzzelli quindi dove abbiamo portato il cuore all'orchestra nelle periferie per ben tre volte adesso proveremo a lanciare anche il cartellone di quest'estate nei parchi di tutti i quartieri così come il bando che verrà pubblicato a breve nella nostra ripartizione delle risorse avute dal Ministero della Cultura di oltre un milione di euro dedicate proprio alle periferie e quindi ecco strategicamente che si inserisce in un percorso già avviato. E allora Assessore cosa accadrà? Qualche anticipazione per le vie dei municipi? Si sceglieranno dei luoghi appunto insieme ai presidenti che colgo l'occasione per ringraziare Gianlucio Smaldone, Grazie Albergo, Nicola Schingaro, Vincenzo Brandi, Lorenzo Leonetti per la disponibilità e la condivisione di queste iniziative a cura sempre del direttore artistico del corteo che proverà a portare una rappresentanza dei figuranti, dei timpanisti, una voce narrante che in ognuno dei municipi racconterà un pezzo diverso della storia ma soprattutto arriverà il quadro di San Nicola che dal corteo storico poi non ha mai fatto un percorso diverso e quindi proveremo a portare anche il corteo in collaborazione con la Basilica Pontificia. Questa è la novità, ecco il quadro che è l'effigie del Santo, l'icona alla quale appunto siamo tutti devoti e sarà protagonista di questi momenti. Ed è questa la grande novità, ringraziamo l'assessore Ines Pierucci, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buona serata. Cambiamo argomento, siamo sulla cronaca presunti appalti truccati al comune di Polignano a Mare e c'è questa ipotesi dietro l'inchiesta amici miei della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto anche del sindaco e presidente Ancipuglia Domenico Vitto del vice sindaco Salvatore Colella e di tre funzionari del comune. Sentiamo. C'è anche la riqualificazione del lungomare di Polignano a Mare intitolato Domenico Modugno e del valore di 850 mila euro con la piazza dove sorge la statua del cantautore tra gli appalti per 1,2 milioni di euro ritenuti truccati dalla procura di Bari nell'ambito dell'inchiesta che ha portato oggi all'arresto del sindaco di Polignano Domenico Vitto del suo vice Salvatore Colella e dei dirigenti comunali Nicola Cicala, Raffaele Lassandro e Pasquale Teofilo. Per cinque imprenditori è stata disposta la misura interdittiva complessivamente. gli indagati sono 24, 14 dei quali funzionari comunali e imprenditori non raggiunti da misure cautelari. L'operazione, denominata Amici Miei, è partita da ipotesi di peculato a carico di gestori di tabaccherie che gestivano il pagamento dei servizi delle mense scolastiche sospettati di non versare nelle casse comunali gli incassi delle rette. Tra le contestazioni anche gare per la manutenzione delle strade del verde pubblico, per la progettazione e ristrutturazione di immobili e anche per la ristrutturazione di un bene confiscato alla mafia. Questa attività di inquinamento delle gare, come l'hanno definita gli inquirenti, sarebbe stata fatta con falsi sorteggi dei presidenti delle commissioni di gara, affidamenti diretti sotto soglia e informazioni date a ditte amiche per modularne l'offerta. In cambio, sarebbe emerso dalle indagini, gli amministratori e i funzionari avrebbero ottenuto sostegno elettorale, progressione di carriera e lavori di lì in casa. Tra le gare su cui sarebbero state accertate irregolarità, sei quelle contestate dalla procura nella richiesta d'arresto per un valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di corruzione, concorso impeculato e turbativa d'assa, falso ideologico, rivelazione del segreto d'ufficio, omissione di ufficio e subappalto illecito. La direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiesto rinvio a giudizio di 80 persone coinvolte nell'inchiesta levante sul presunto riciclaggio anche all'estero di denaro derivante da attività illecite, di evasione fiscale e frode sulle forniture di carburante. Nell'indagine della D.A. e della G.D.F. sono coinvolti tre avvocati, un commercialista e un ufficiale della Guardia di Finanza, diversi imprenditori, oltre esponenti del clan mafioso Parisi di Bari, accusati a vario titolo di associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità finalizzata alle frodi fiscali, al riciclaggio e all'autoriciclaggio dei relativi proventi, nonché al trasferimento fraudolento di valori, al contrabbando di prodotti energetici, alle estorsioni, al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi con aggravante mafiosa. L'inchiesta ha portato all'esecuzione di 75 misure cautelari e ha accertato un volume di affari illecito di 170 milioni di euro. L'udienza preliminare inizierà il 15 maggio dinanzi alla GUP del Tribunale di Bari Ilaria Casu e si celebrerà nell'aula bunker di Bitonto. Lotta alla contraffazione alle frodi a tutela del consumatore delle imprese, siglato l'accordo tra Città di Bari, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Con il documento siglato questa mattina, il Colpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Bari hanno istituito forme di collaborazione atte a sviluppare procedure di coordinamento, sia attraverso incontri periodici utili a pianificare le attività e i campi di intervento, sia attraverso la programmazione di controlli congiunti sul territorio. Nel corso delle operazioni congiunte, l'Ufficio delle Dogane di Bari contribuisce con il proprio supporto tecnico sia durante l'esecuzione di operazioni di contrasto alla contraffazione e ai fenomeni fraudolenti, sia a supporto delle attività di polizia giudiziaria. Siglato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo di Città, il protocollo di intesa tra la Città di Bari e l'Agenzia delle Accise e Monopoli fissato alla lotta alle contraffazioni, alle frodi a tutela del consumatore e delle imprese. A siglare l'accordo sono stati il Sindaco di Bari Antonio De Caro e il Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane Marcello Minenna alla presenza del Comandante della Polizia Locale di Bari Michele Palumbo. Credo che la relazione istituzionale con l'Agenzia delle Dogane già nel tempo ci ha permesso di avere un'azione repressiva nei confronti della contraffazione. Con questo protocollo, con questa operatività e lavoro congiunto otterremo sicuramente ulteriori risultati. In questi anni abbiamo combattuto la contraffazione, la vendita abusiva dai grandi traffici internazionali come per esempio i fuochi d'artificio nel periodo delle festività alla vendita abusiva di genere alimentare. Portiamo a sistema, dati, l'operatività dei nostri laboratori, dei nostri ufficiali di Polizia Giudiziaria in sinergia col corpo della Polizia Locale. Diventeremo più efficaci nel contrasto all'illegalità, alla contraffazione, una sinergia importante che sistematizza una serie di progettualità pilota che avevamo avuto nel passato. Voltiamo pagina al Ministro per il Sud, Mara Carfagna, a Bari per parlare delle zone economiche speciali, accelerare nella realizzazione e l'invito di Confindustria. Intanto si parla di un allargamento dai perimetri. Il servizio. Le zone economiche speciali diventeranno operative a breve. Questioni di giorni. Tra poco le due nomine dei commissari saranno finalizzate e le abbiamo rivitalizzate introducendo nel PNRR una linea di finanziamento di 630 milioni per garantire l'infrastrutturazione. Ad affermarlo è la Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, a margine del convegno sulle zone economiche speciali, opportunità strategica per lo sviluppo del mezzogiorno, organizzato a Bari da Confindustria Puglia in collaborazione con Confindustria Molise e Confindustria Basilicata. E proprio dall'Associazione degli Industriali sono arrivate le principali richieste per i prossimi interventi. Io non vorrei proroghe, siamo stanchi. Il Sud l'unica cosa che non ha più è il tempo, non abbiamo più tempo di aspettare. È un'opportunità enorme, la dobbiamo cogliere e dentro il 2026 io non voglio chiedere ancora proroghe, anzi voglio chiedere velocità. Possiamo pensare invece a problemi relativi all'utilizzo delle risorse del PNRR quando i piccoli comuni non riescono a chiudere i progetti. Dalla Ministra è stata garantita tutta la disponibilità a proseguire in questa direzione salvaguardando le legittime istanze soprattutto delle regioni meridionali con in più l'anticipazione di poter prevedere anche un allargamento dei perimetri delle ZES. Sarà il commissario ZES che avrà la possibilità, il potere di proporre eventuali riperimetrazioni. Naturalmente bisogna rispettare il tetto massimo di territorio ammesso all'area ZES e questo naturalmente è importante perché ci sono alcune aree ZES che non hanno ancora raggiunto questo massimale, ci sono esigenze naturalmente che impongono invece di aggiungere ulteriore territorio o anche eventualmente di riperimetrarlo. La filosofia comunque che a mio avviso deve ispirare i commissari è quella di rafforzare queste aree industriali connettendole alla rete portuale, alla rete stradale e alla rete ferroviaria. E adesso ci colleghiamo dalla postazione social con Italo Cinque Palmi per gli aggiornamenti del nostro sito Italo. Buonasera. Buonasera Cristina. Un carico straordinario di farmaci promosso dal comune di Bari in rete con Federpharma e l'ordine dei farmacisti è arrivato in questi giorni a Leopoli a comunicarlo all'assessora al welfare Francesca Bottalico. Si tratta di un carico del valore di 23.000 euro, circa una tonnellata di medicinali selezionati e organizzati grazie alla preziosa collaborazione delle farmacie che hanno aderito all'iniziativa. Sono state infatti 39 proprio le farmacie coinvolte mentre i tir che hanno trasportato il carico sono stati messi a disposizione dalla Protezione Civile e dall'ufficio di gabinetto della Regione Puglia. Bottalico ringrazia i baresi per la generosità e solidarietà dimostrate e tutte le associazioni coinvolte con le quali ha detto stiamo potenziando le attività di accoglienza e sostegno rivolte a tutti i migranti e i profughi provenienti da paesi in guerra e in povertà che continuiamo a supportare come sempre. Bene, con questo è tutto. Per il momento, a dopo per altre notizie. Una carezza del cuore da Bari all'Ucraina parte il messaggio per la pace è un segnale ancora più significativo perché parte dall'Istituto Tumori di Bari. Non voglio baciarti, potrei toglierti il respiro. Le nude del pianoforte risuonano nella sala d'attesa del Don Tonino Bello dell'Istituto Tumori di Bari a suonare la pianista ucraina Elisaveta Klinkova originaria di Kiev in Puglia già da prima dell'inizio del conflitto per motivi di studio e oggi con il cuore alla propria terra e ai propri affetti. È stata lei ad accompagnare l'iniziativa organizzata dall'Istituto con l'Associazione Porta d'Oriente Fratres e Favo proprio per ricordare come la cultura possa essere il veicolo migliore per trasmettere messaggi positivi anche in un contesto di malattia come quello di un ospedale o di guerra come quello dell'Ucraina. Da quando ho iniziato la guerra io avevo soltanto un desiderio aiutare alle persone visto che stavo già al sicuro non potevo ovviamente tornare a combattere come faccio io a combattere quindi ho voluto soltanto aiutare, fare volontario e suonare per beneficenza di Ucraina. Che è un'amica molto stretta che ha superato un cancro prima che scoppiasse la guerra in Ucraina e che adesso è in Ucraina e adesso è in Ucraina questa tua amica. Sì, lei ha sopravvissuto, questo meno male speriamo che sempre andrà tutto bene. E le immagini degli ospedali bombardati non possono che fare più male in un luogo dove con tanta fatica si cerca ogni giorno di salvare delle vite a maggior ragione se si pensa che sono molti i bambini malati di cancro fermi al confine che hanno difficoltà a ricevere le proprie cure. Geni Palmiotti, direttore dell'Unità di Oncologia Medica ha lanciato così un appello all'accoglienza. È un doppio dolore. Il dolore è innanzitutto di vedere bambini ammalati di tumore che già di per sé è una grande tragedia e poi sapere che non possono essere curati degnamente anche conoscendo il fatto che invece molti bambini possono essere salvati. Devo dire che la città di Bari è stata pronta ad accogliere qualcuno di questi bambini io sono proprio te Simone che è una bambina con una neoplasia cerebrale è stata prontamente accolta al policlinico e prontamente curata quindi questo ci fa veramente un grande onore però mi permetta di lanciare un appello sono fermi al confine tante mamme e tanti bambini che vogliono venire qui da noi abbiamo bisogno di ospitarli quindi il mio appello è a chiunque possa essere in grado di ospitarli di farlo perché questo è veramente il momento di dare una solidarietà concreta. Noi siamo in chiusura del primo spazio del nostro telegiornale breve pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme con nuove notizie. Ben trovati in diretta con il Tg di Telebari adesso parliamo di tatuaggi perché? Perché d'ora innanzi sarà vietato utilizzare pigmenti che non rispettino il limite stabilito dal nuovo regolamento europeo perché ritenuti pericolosi per la salute e allora il Dipartimento di Prevenzione ASL di Bari in collaborazione con i carabinieri del NAS ha avviato un piano di prevenzione e di verifica nei centri, negli studi che effettuano tatuaggine. Parliamo con Paolo Marcuccio referente Rich dell'ASL di Bari in diretta Skype con noi Dottor Marcuccio, buonasera e grazie per essere intervenuto. Buonasera e grazie a voi per l'invito. E allora, è vero che esistono pigmenti colori ritenuti pericolosi per la salute perché contengono sostanze cancerogene? Il regolamento europeo del 2081 non ha vietato chiaramente i tatuaggi ma è ristretto il limite per alcune sostanze che sono considerate pericolose. Sono cancerogene quindi 4.000 di queste sostanze che possono essere presenti nei pigmenti sono state ristrette, cioè limitate nella loro concentrazione e parliamo comunque di concentrazioni infinitesimali, cioè bassissime. Di che tipo di sostanze si tratta? Leggevamo toluidina e anisidina contenuti anche nel petrolio nei combustibili fossili come il carbone, è vero? Sì, come dicevo prima sono oltre 4.000 sostanze non solo quelle però essenzialmente sono l'attenzione della comunità europea dell'ECA che è l'Agenzia europea per le sostanze chimiche essenzialmente sulle sostanze cancerogene e mutagene e tra queste ci sono le ammine aromatiche o gli idrocarburi policiclici che sono presenti anche chiaramente nel petrolio. Ecco, in che modo avverranno i controlli? Quando partiranno i controlli negli studi dei tatuatori? E quali i consigli per chi si sottopone al tatuaggio soprattutto ai tatuaggi colorati? Sì, allora noi abbiamo ideato questo progetto questo piano è stato diciamo progettato come piano mirato della prevenzione cioè noi siamo un dipartimento di prevenzione quindi facciamo come mission prevenzione e non repressione quindi è stato oggi abbiamo fatto questo evento informativo in cui abbiamo convocato invitato tutti i tatuatori della provincia di Bari abbiamo spiegato il perché abbiamo progettato appunto appunto questo piano e informato su quelle che sono i loro obblighi ai fini del regolamento che nominavo prima il 2081 del 2020 è entrato in vigore appunto il 4 gennaio 2022 e anche i fini del ricerci del P quindi abbiamo spiegato come compilare una scheda che è stata consegnata oggi ci ritornerà con delle informazioni a noi utili e per il mese di giugno partiranno i controlli a campione in una percentuale non inferiore al 15% di tutti i tatuatori presenti nella provincia di Bari in collaborazione con i NAS e verificheremo poi se quanto hanno dichiarato questa scheda di autovalutazione realmente corrisponde alla realtà non ci soffermeremo solo sulla presenza di queste sostanze all'interno dei pigmenti per tatuaggi ma anche verificheremo chiaramente la corretta igiene le procedure corrette appunto di come fanno i tatuaggi volevo dire che faremo anche dei campioni faremo dei campioni di questi coloranti di queste miscele per pigmenti che invieremo all'APPA di Bolzano che è l'agenzia protezione provinciale dell'ambiente di Bolzano che collabora con noi per le analisi di laboratorio quindi i tatuatori devono solo verificare che gli inchiostri che acquistano rispetto alla normativa siano diciamo correttamente etichettati solamente chiaramente se poi nelle valutazioni di laboratorio risulteranno dei limiti non rispettati saranno i produttori i fornitori a rispornerne eventualmente all'autorità competente benissimo ringraziamo Paolo Marcuccio referente RIC dell'ASL di Bari grazie per essere stato con noi grazie a voi buona serata andiamo avanti con le nostre notizie uno sguardo al bollettino epidemiologico regionale ci sono 5.860 nuovi positivi al coronavirus su 29.069 test con una incidenza del 20,15% e 11 morti i nuovi casi sono distribuiti in questo modo Bari la città che registra in maggior numero con 2.133 nuovi infetti delle 102.444 persone attualmente positive 589 sono ricoverate in area non critica e 37 in terapia intensiva e adesso uno sguardo al nostro sito lo facciamo con Italo 5 Palmi dalla postazione social ancora una volta Italo sono iniziati lo scorso 19 aprile i primi interventi di sanificazione della rete fognaria sulla città di Bari i tecnici di Acquedotto Pugliese sono partiti dal rione Fesca San Cataldo con squadre specializzate che hanno dato avvio alle consuete attività che prevedono la deratizzazione e disinfezione della rete fognaria cittadina un fitto piano di interventi che interesserà l'intera città di Bari si concluderà tra fine agosto e inizio settembre anche quest'anno abbiamo iniziato i lavori ha detto l'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli prima dell'arrivo della stagione calda ma è importante che tutti provvedano a eseguire gli interventi per le sanificazioni interne mi rivolgo dice in particolare a condomini cittadini e titolari di attività ricordando loro l'importanza delle sanificazioni interne senza le quali si vanificherebbe l'intervento pubblico che stiamo portando avanti degli interventi si occupa Acquedotto Pugliese due volte all'anno operatori specializzati prevalentemente nelle ore notturne lavano, derattizzano e disinfestano l'intera rete servita ispezionando tutti i pozzetti di accesso spesso i pozzetti sono posizionati sul manto stradale quindi si richiede il rigoroso rispetto della segnaletica posizionata dai tecnici bene con questo è tutto quindi per oggi Cristina a te buona serata c'è anche il comune di Noci tra gli aderenti alla campagna in vista della giornata nazionale della donazione di organi e tessuti prevista domenica 24 aprile è il servizio di Francesco Russo è partita ieri la campagna nazionale donare è una scelta naturale in occasione della 25esima giornata nazionale della donazione di organi e tessuti in programma il 24 aprile alla quale ha aderito anche il comune di Noci si tratta di una adesione che riconferma l'impegno di questa amministrazione rispetto al tema ha spiegato il sindaco Domenico Nisi già nel 2016 l'adesione alla campagna è una scelta in comune promossa da Aido e l'attivazione presso l'ufficio anagrafe della possibilità per i cittadini di acconsentire alla donazione di organi e tessuti si tratta di scelte individuali rimarca il primo cittadino di Noci che possono fare la differenza tra la vita e la morte un sì in comune e il messaggio proposto ai cittadini per invitarli a dare il consenso alla donazione al momento del rinnovo della carta d'identità ma ricordando anche che è possibile dire di sì subito online con la Speed la propria identità digitale attraverso l'Aido l'associazione italiana donatori organi la campagna social che vede protagonisti sindaci dei comuni italiani aderenti una settimana di sensibilizzazione e uno spot radiofonico sono iniziative messe in campo dal centro nazionale tra pianti e dal ministero della salute con la partnership dell'Anci oltre alla costante collaborazione delle associazioni del volontariato di settore tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.scegli.ddonare.it ci spostiamo a Santeramo dove si terranno giornate invece dedicati all'ambiente alle trasformazioni climatiche e alla sostenibilità il punto nel servizio di Eziana Di Mola l'amministrazione comunale di Santeramo con il mondo scolastico la biblioteca comunale Colonna propone delle giornate green dedicate all'ambiente grazie al contributo delle associazioni territoriali a tal proposta abbiamo sentito il primo cittadino santermano Fabrizio Baldassarre i Green Days che si svolgeranno a Santeramo in Colle dal 22 al 25 aprile prossimi sono delle giornate dedicate alle trasformazioni climatiche all'ambiente al territorio ma anche alla storia e alle tradizioni del nostro territorio in particolare della nostra città Santeramo in Colle il coinvolgimento prezioso delle associazioni dei gruppi di volontariato di tutta la città che partecipa attivamente anche attraverso le scuole alle iniziative comunali per la tutela dell'ambiente sono fondamentali soprattutto in questa fase in cui ci stiamo riprendendo finalmente da due anni faticosi e sofferenti di pandemia questo è un momento importante per tutti quanti noi e spero che davvero possa lasciare un segno positivo e davvero di speranza a tutta la nostra comunità e per questa edizione del TG Sera è tutto vi lasciamo al talk di Telebari grazie per averci seguito restate con noi amici trebi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre provisioni per la giornata di giovedì che vedrà un netto peggioramento per l'arrivo di una perturbazione dal Mediterraneo occidentale perturbazione anche piuttosto intensa riporterà piogge diffuse tra giovedì e venerdì in diverse zone del paese controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia e come vedete nubi che aumentano un po' dappertutto da nord a sud qualche schiarita si vedrà ancora nelle estreme regioni meridionali però ripeto giornata già che vedrà un peggioramento del tempo anche in termini di precipitazioni quelle piogge più intense sulla Sardegna ma già qualche goccia di pioggia interessa parte del nord soprattutto al di sotto del Po e l'Italia centrale a cominciare dal versante tirrenico insomma tornano le piogge sull'Italia la Sardegna diciamo la regione che vedrà anche dei temporali degli acquazzoni poi tempo in peggioramento a partire dal versante tirrenico in tutto il centro Italia arrivano le prime gocce di pioggia anche al sud eppure al nord precipitazioni principalmente però diciamo al di sotto del Po comunque in tutto il paese si sentono gli effetti di questa perturbazione anche in termini di temperature che al nord risulteranno piuttosto contenute al centro sud però grazie a venti meridionali clima ancora mite per tutti i dettagli comunque sulle vostre